Regolamentata la possibilità di collegarsi da remoto e partecipare quindi in videoconferenza al Consiglio Comunale da parte sia di tutti i suoi componenti che dell'Aggiunta, ancora del Segretario Generale, i suoi collaboratori o il suo vicario. Approvato infatti dal Consiglio Comunale l'articolo 4bis che viene inserito dunque nel regolamento comunale che stabilisce tutti i criteri per l'adunanza in videoconferenza da remoto. Un documento che rispetto alla proposta iniziale ha già subito delle modifiche dato che sono stati approvati all'unanimità 12 emendamenti. Ma così come ci spiega il Presidente del Consiglio Comunale potrebbe ancora essere perfezionato in futuro anche attraverso eventuali nuovi emendamenti. Le sedute dunque potranno svolgersi anche in modalità mista, basterà che l'interessato nei casi di emergenza che rendano impossibile la sua partecipazione in presenza faccia apposita richiesta nei tempi previsti e cioè almeno tre ore prima dell'orario della seduta e sarà poi il Presidente a darne l'autorizzazione informando i consiglieri presenti. E ancora il Consiglio Comunale potrà essere convocato in sola modalità da remoto dal Presidente del Consiglio Comunale per l'appunto previa però consultazione della conferenza dei capigruppo. Con lo stato di emergenza c'era la possibilità per tutti i comuni di appunto potersi collegare in remoto. C'è stato lo stato di emergenza, ogni comune, ogni Consiglio Comunale doveva avere un proprio regolamento per poter continuare a farlo. Chiaramente parliamo sempre di situazioni di forte necessità, di emergenza, di contingenze particolari quindi abbiamo proprio approntato un regolamento abbastanza equilibrato che darà la possibilità ai consiglieri comunali che si trovano appunto in una situazione particolare di emergenza, di necessità di potersi collegare anche in modalità mista. È abbastanza rodato il sistema perché noi comunque già lo utilizzavamo in stato di emergenza quindi abbiamo avuto già dei collegamenti in modalità mista e non abbiamo avuto alcun problema. Quello che è importante è verificare la trasparenza di come avvengono i collegamenti, di dare la possibilità che tecnicamente sia tutto a posto in modo che ogni consigliere possa collegarsi e debba collegarsi in audio e in video perché chiaramente questi sono i presupposti per poter poi appunto ratificare la presenza di ogni consigliere.